Nel Vangelo di questa domenica, i farisei cercano nuovamente di mettere alla prova Gesù. Così uno di loro gli domanda, Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose, Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello, Amerai il tuo prossimo come te stesso. Gesù sta dicendo che esiste un primo comandamento ed anche un secondo comandamento, che non è uguale al primo ma che tuttavia è simile al primo. Per cui potremmo dire che tra i due comandamenti c'è una priorità, c'è una gerarchia. Prima viene Dio, poi il prossimo, ma tuttavia anche reciprocità e complementarietà. Potremmo perciò considerare questi due comandamenti come le due facce di una stessa medaglia. È chiaro che l'amore di Dio viene per primo, ma la controprova che il nostro amore per Dio è vero è proprio l'amore del prossimo, l'amore per il prossimo. Vediamo cosa dice la scrittura a proposito, perché a volte la migliore omelia è spiegare la scrittura con la stessa scrittura, con la stessa parola di Dio. Vediamo dunque qual è l'origine, la fonte, la priorità e qual è anche la scaturigine, la conseguenza, la ragione di questa reciprocità. Qual è l'origine dell'amore? L'uomo? L'uomo è capace di amare? Giovanni nella sua prima lettera dice molto chiaramente che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Perciò possiamo dire che l'uomo non era capace di amare, perché è Dio la fonte dell'amore. Ma oggi noi possiamo amare perché abbiamo ricevuto l'amore di Dio e amiamo nella misura in cui riflettiamo l'amore di Dio che abbiamo ricevuto. Si crea così un circolo, un flusso di amore. L'amore non può non diffondersi, non può restare intrappolato, chiuso, ma deve uscire, riversarsi sugli altri. Così è fondamentale amare Dio, coltivare un rapporto con Dio nella preghiera, nell'orazione, nella meditazione, nella contemplazione, nell'adorazione, per attingere la fonte dell'amore. Lasciarsi amare da Dio, lasciarsi avvolgere dall'amore di Dio, lasciarsi immergere nell'amore di Dio, lasciarsi riempire da questo amore che poi dovremmo però riversare sugli altri, amando gli altri, amando il nostro prossimo. E così dimostreremo anche di amare Dio, veramente. Ma andiamo per ordine. Guardiamo ancora alla scrittura. Cosa significa amare Dio? Gesù, durante l'ultima cena, dice chiaramente, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Quindi, per poter dire di amare Dio, condizione indispensabile, intanto, è l'osservanza dei comandamenti. È bene ripetere questo, ricordarci questo, perché oggi si incontrano tante persone che dicono di essere cristiane. Dicono addirittura di amare Dio, ma in realtà non osservano né si sforzano di osservare i comandamenti di Dio. E stiamo parlando, sì, dei dieci comandamenti, ma Gesù, durante l'ultima cena, va anche oltre e aggiunge, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete mie discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Così capiamo che non basta pregare per amare Dio, ma che è da quella preghiera che poi devono scaturire dei frutti concreti di amore, con i quali amiamo Dio e il prossimo. San Giovanni è molto chiaro su questo punto, e dice così, se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui. Chi ama Dio, ami anche il suo fratello. Ed esorta anche, figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Ed in fondo non sta dicendo niente di nuovo, perché Dio stesso reputa fatte a sé stesso le azioni che facciamo a nostro prossimo. Come possiamo comprendere dalle parole di Gesù? In verità vi dico, ogni volta che avete fatto o che non avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me. È molto chiaro allora come l'amore di Dio e l'amore per il prossimo, l'amore verticale, l'amore orizzontale, non possano essere separati, non possano esistere l'uno senza l'altro, ma si intersecano come gli assi di una croce. O, come abbiamo visto prima, possono essere considerati come le due facce di una stessa medaglia. Abbiamo visto anche che amare Dio significa osservare i comandamenti, incluso il comandamento dell'amore. Ma cosa significa concretamente amare il prossimo? Purtroppo oggi la parola amore è una parola molto abusata, viene fatto passare per amore ciò che amore non è, ciò che con l'amore non ha niente a che vedere. La parola amore va incontro alle più grandi storpiature o aberrazioni. Molte volte viene fatto coincidere con l'amore ciò che può essere un aspetto o una parte dell'amore, ma che non ne costituisce l'essenza e così si fa coincidere l'amore con il sesso, l'emozione, il sentimento, l'istinto, la filantropia. Ma cosa significa amare qualcuno? Amare qualcuno significa volere il suo bene. Ed il maggior bene per una persona è raggiungere il fine per il quale è stata creata da Dio, ovvero la salvezza della propria anima. Per cui io amo una persona nella misura in cui la aiuta a conseguire il fine della sua vita, il fine per cui è stata creata, ovvero dare gloria a Dio con la salvezza della sua anima. Così alla luce di questo già svaniscono alcune forme sbagliate, alcuni significati falsi attribuiti all'amore. Inoltre ciò che oggi manca è la concezione dell'amore come donazione, donazione di quell'amore che io ho ricevuto da Dio e donazione di me stesso all'altro per il bene dell'altro. E in questo l'esempio rimane sempre Gesù sulla croce, l'esempio sommo, quello di Gesù sulla croce che mi ha amato e ha dato se stesso per me, come direbbe San Paolo. Questa concezione di amore come donazione sarebbe bene che tutti la recuperassimo, ma specialmente coloro che intendono sposarsi. E questo già da fidanzati. Infatti si sente spesso dire io ti amo perché tu mi fai stare bene, ma l'amore vero, l'amore come donazione, parte dal presupposto esattamente opposto e cioè io ti amo, pertanto faccio di tutto perché tu stia bene, perché desidero il tuo bene, il tuo vero bene. Vediamo qualche esempio di falsificazione dell'amore. Ecco, l'amore come sesso. Si sente spesso dire tra fidanzati, se tu mi ami allora, ecco il modo in cui si richiede un rapporto sessuale come prova di amore, quando in realtà tra fidanzati sarebbe proprio il contrario, in quanto la dimensione dell'attesa fortifica l'amore, fortifica la fedeltà, fortifica una scelta che si prepara ad essere unica e definitiva e cioè solo tu e tu per sempre. Questo aiuterà i futuri sposi ad essere già allenati alla fedeltà. Questa è la vera prova di amore che aiuterà i fidanzati e futuri sposi a santificarsi insieme, a cercare veramente reciprocamente il bene l'uno dell'altro e questo è il vero amore. Ma se io spingo la mia fidanzata o il mio fidanzato a peccare, io non sto amando la persona che dico di amare perché non la sto aiutando a raggiungere la salvezza della sua anima, ma anzi la sto mettendo in serio pericolo di perdere la sua anima e questo decisamente non è amore. Così chi già un po' mi conosce sa che ritorno sempre sugli stessi concetti e cioè che anche emozioni e sentimento possono essere la parte iniziale dell'amore, ma non costituiscono l'essenza dell'amore, che va al di là delle emozioni e dei sentimenti e che nel tempo si trasforma sempre più in una ferma decisione della volontà, la volontà di amare giorno dopo giorno. Si parla perciò anche di evoluzione dell'amore, che si trasforma progressivamente da Eros in Agape. Altra deformazione è la cosiddetta filantropia. Oggi si sente tanto parlare di associazioni filantropiche, di filantropi, cioè di coloro che mettono a disposizione una parte importante del loro patrimonio per il bene dell'umanità, per amore dell'umanità. Almeno questo in teoria, ma molto spesso questo presunto bene, questo presunto amore per l'umanità, non coincide con l'amore cristiano, non coincide cioè con la carità, la cui definizione infatti è amore del prossimo per amore di Dio. Ma quando l'amore di Dio non c'è, quando non si parte da questa fonte, quando Dio addirittura è assente, molto spesso il bene è solo apparente e si rivela in realtà un vero e proprio male. Faccio solo un esempio, tanto per capirci. Un'associazione filantropica, un filantropo che aiutasse le donne ad abortire il bambino che hanno in grembo. Stanno amando l'umanità o stanno odiando l'umanità? Stanno amando o odiando la persona? Stanno rispettando la dignità della persona, il diritto inviolabile alla vita? Stanno aiutando la persona a conseguire il fine per cui è stata creata, ovvero la salvezza della propria anima? Assolutamente no. Spingere, collaborare, cooperare ad un peccato mortale come un omicidio o a qualsiasi altra azione immorale, come aborto, eutanasia, contraccezione, utero in affitto, maternità surrogata e altre bestialità, non possono in nessun modo conciliarsi con la carità cristiana. Non possono essere in nessun modo definite come il bene dell'umanità, come amore per l'umanità, ma piuttosto come odio e crimine contro l'umanità, perché è contraria alla legge e alla volontà di Dio. Dobbiamo perciò stare molto attenti oggi a tutto questo veleno presentato sotto forma di medicina, di rimedio. Allora, per riassumere, amore di Dio e amore del prossimo vanno sempre insieme e non possono essere separati. Per amare Dio dobbiamo osservare i comandamenti, compreso quello dell'amore, e condividere con il nostro prossimo lo stesso amore che Dio ci ha donato, passando così dal dono al compito, dal dono di un amore ricevuto al compito di diffondere, di condividere questo amore con il nostro prossimo, chiunque esso sia. Siano rodati Gesù e Maria.